salve baddipicciotti sono godesa a terra e eccoci di nuovo su shadow warrior 2 eravamo rimasti dopo i 95 metri se ricordate davanti questo palazzo questa entrata non so dove cazzo siamo andiamo a vedere con i nostri occhi chi è questo non parlano non vanno niente ma ecco ci aprono le porte abbiamo mandato anche la difficoltà ragazzi perché era abbastanza facile all'inizio non so adesso qui succeda cosa di brutto oggi è cambiare e cobrano e sociopatiche ma basta cino scopo to decorate mi accusa mancia dobbiamo salire qui ho tradotto anche il capitolo qui al in the world squad che cosa delle di per vestire di nero hello 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 anche uno di buona destra qui non l'ho perhaps you will realize her destiny fascinating oh you get your chance i see oh there has been an incident mr wang mr wang iscriviti al canale oh e siano no e ok io work for this beat nice lady too i am in no one's employ but my own you two know each other smith is my mechanic fix my car a few moktaz time I am here on personal business comico has gone missing the birthday girl does that mean ok it's gonna mean no balls che cosa? va saltiamo ragazzi vedete 100.000 cash che shit saltiamo saltiamo ecco qui uscita ok quella muleta che abbiamo trovato all'inizio se si muove si prenderanno i tuoi dei miei giudici per le settimane la donna sicuramente sa come motivare il suo lavoro l'intimidazione è la strada dell'esercizio ok è stupido ma è vero fuori 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 è un padrone di merda dov'è? mi scasso tutto mi scasso la palla non ciò qui non ciò qui vieni qua abbiamo distrutto questi droni qua qui abitando in chestcat from one of the zilla eh questa mica questo è troppi stanza che dipende in visibile ragazzi vieni qua ma questi che buttano miss di me ecco coca puttana ti faccio una mossa azzattata qui no 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 sto perpepato eh quella prima volta mi venito in difficoltà un po' un po' ma che cazzo combino carichiamoci un po' l'energia però consuma mana la stanza la stanza ma vaffan putt ma vaffan putt ma vaffan putt ma vaffan putt dai take it take it away take it away c'è la farmacia qua no beh vabbè medico c'era così è un piccolo ospedale ecco degli uomini cattivi ho visto una cosa qui che cazzo il limone qui che si apre sembra a forma di pene vabbè io ucciderò con le best come posso ricaricare più porca io mi ricarico un po' la katana che si oh no no che cazzo è successo cazzo sono morto o sono morto ma non capire niente sono andato giù ragazzo siete sti ninja di merda mi faccio vedere io vieni vieni qua ah che è un ampica ma vaffan culo prezzo di mamifero ma di che metto il fugito ah come cazzo lo carico ma vaffanculo vaffanculo no se tu fosse lo dobbiamo andare qui ce ne abbiamo mancato uno ce ne abbiamo mancato uno di che amico però non ci ne frega ecco la nostra scheda siamo arrivati insieme alle rettici va bene va bene va bene questo è un po' più un ammazzo a zone di qui sì però dobbiamo difenderci un po' perché sì attacchiamo sempre spedare oh stava arrivando skip point non riuscive come osi colpire c'è un altro che butta di... che cazzo schifo? delle pistole silenziali abbiamo preso un'altra carta di accesso... carta di accesso, una carta vediamo se c'è qualcosa da prendere però ragazzi perché so che possiamo lavarcela però meglio osservare meglio questo è l'obiettivo ci risulta buone, vabbè andiamo, abbiamo preso dei sottini un altro film art? ragazzi io salto perché sei dura chi è che sei la mea? ragazzi salto voglio bevere dobbiamo salvare quella fanciulla imprigionata ma non so la strada vabbè stanno arrivando altri nemici venite andiamo a scoprire io lo dovo schifazzo mi abbiamo fatto i cassetti Ok Noi dobbiamo andare Dobbiamo scendere Oh caratteristica Farsi cazzo di schette all'improvvisa E cos'è qua? Dobbiamo scendere Dobbiamo andare qua? Che cazzo sono queste cose? Mi sa che si risvegliano Ho avuto un piccolo lag Che cazzo Dobbiamo andare Scendiamo giù 14 Ma non dobbiamo andare qua Dobbiamo andare giù Ecco Oh Minore palle Sì 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 Ma perché a me dovremmo poter utilizzare un pezzo? Che a me Questo non è stato da dare Questo non è stato da dare Prendiamo così Weapons Ehm Io scendo Sica polce Sica polce Sica polce Allora Vabbè questa è una industria qua Questa zilla Femina 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 Maledetto Maledetto Dimmi Ecco qua Ehm Dunque Esche point Ok Dobbiamo un po' aggiornare e Potenziare qualcosa adesso dobbiamo salire ci sono pronti per l'azione corri corri ragazzo la ciupa parà con doppia v si correva non vorrei troppo che se fai viola perchè è tosse non vado non vado da nada non vado eh vabbè sperava ho chiudito no 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 maledetti 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 strunzi di merda carica 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 uno è andato l'altro è andato ma vaffa ma vaffa chiudolo ma si ninja qui zilla ninja abbiamo recuperato un leoncino leoncino piccantino fq fq si salti così sti per beccienni uccidi 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 tutti uccidi tutti abbiamo ucciso questo di colore viola vaffa si riprendiamo tutto se non ce ne ha prego un gatto che cos'è ok ok abbiamo preso tutto il necessario caratosso questo guarda c'è qui un'altra carta carda c'è quella carta vabbè cominciosi da qui no no non ce ne scoppiamo qualcosa ma non ci il 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 Io sono il filto sotto i tuoi occhi. Io sono l'olio che brucia il tuo sangue. Smith, Carmico, cosa succede? Scandicolo. L'abbiamo scattato con un tipo di serum e lei diceva... Mi piace, seguimi velocemente. Io sono un uomo. Cosa stai a fare, tu vecchio uomo? Sì, c'è il sangue all'interno. Abbiamo liberato l'anima di questa... ...Nicole, Kamiko. Non so se è lega. Non so, dove sei? Non so, dove sei? Non so, tutto si è così lungo. Credo che abbiamo salvato questa ragazza. ... 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